Ciao, ciao, Stefano Vintelli, eccolo qua. E' un altro pilota avvizzatore, vedremo come ha avvito il modello. Si chiama auto verticale questo qui, vero? E' un Edge 540 che vedete transitare in questo momento sulla pista. E' un Edge 540 che vedete, vedremo come ha avvito. Direi che non ci sono più parole, vero? Grazie. Grazie. Mamma mia, mamma mia, per bellina che tu sia, guarda lì, guarda lì. Ok. Grazie. Grazie. E adesso vediamo che cosa succede. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi viene un applauso? 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 Vi viene un applauso?